Sabato 30 marzo alle ore 21 e domenica 31 marzo alle 19.30 al Cineteatro Bertoni di Battipaglia andrà in scena Chiamalo pure amore, commedia in due atti scritta e diretta dal regista e attore Luca Landi con le musiche originali del maestro Roberto Marino. Lo spettacolo, portato sul palco dalla compagnia Attori per caso, prende spunto dalla fine di una relazione per raccontare in chiave comica e paradossale le tante situazioni legate al distacco. Una commedia che parla di amore a 360 gradi e che mette in luce le difficoltà nei rapporti, nel relazionarsi con gli altri e nel mantenere salde le amicizie e gli amori.